Strada Statale Centro dopo l'inarrestabile sequenza di vere e proprie tragedie, dopo le nostre ripetute sollecitazioni e le reiterate prese di posizione da parte di tutte le parti politiche con particolare riferimento ai consiglieri regionali del territorio, come Antonio Scalera che spinge sulla compattezza che il fronte tarantino dovrebbe avere nella duplice sollecitazione, quella nei confronti del Governo regionale e quella nei confronti dell'ANAS, visto che parliamo della Strada Statale Centro che collega Bari a Taranto, dovremmo essere alla vigilia dei fatti concreti. Molti scrivono e parlano di questa maledetta strada, ma si dimentica di raccontare dell'enorme ingiustizia perpetrata nei confronti delle comunità ioniche perché la Centro è stata raddoppiata a quattro corsie da una ventina di anni tra Bari e Gioia del Colle, fregandosene altamente del tratto meridionale tra Gioia del Colle, Massafra e poi Taranto. Il problema è duplice, ripetiamo, da una parte gli investimenti che servono a realizzare il raddoppio della Gioia del Colle Massafra-Taranto, che come sempre sarà difficile reperire quando si tratta di infrastrutture da realizzarsi a sud di Bari, dall'altra gli interventi immediati, da fare subito, perché mentre ascoltate queste parole, continua il pericolo. Ieri ancora uno scontro frontale nei pressi di Massafra e la miscela pericolosissima tra traffico pesante e autoveicoli e l'assenza di sparti traffico centrale continua. In questo senso la presa di posizione di molti, compreso il consigliere regionale Renato Perrini, che chiede la chiusura immediata ai tir dell'accento e la conseguenziale gratuità dell'autostrada a quattordici nel tratto da Taranto fino a Bari e mentre Vanni Caragnano annuncia una manifestazione di protesta organizzata dal Comitato Strade e Sicure per il prossimo sabato 27 maggio alle ore 10 a Mottola, lunedì si riunisce la quinta Commissione Trasporti della Regione Puglia con tutti gli interlocutori soliti che devono a questo punto decidere e intervenire rapidamente, come ci manda a dire il Presidente Michele Mazzarano, con una novità, l'invito al Prefetto di Taranto. Attraverso la richiesta di altri consiglieri abbiamo rivolto l'invito al Prefetto di Taranto che credo potrà darci indicazioni molto utili per fermare questa lunga scea di sangue.